Presidente, la risposta del Ruzzo alle Iene è arrivata oggi. Servizio cos'è che non va? Io non voglio la risposta alle Iene perché io vorrei soltanto che attraverso voi, attraverso gli organi di stampa, le televisioni, si faccia corretta informazione per evitare che passi un messaggio allarmistico, allarmante relativamente alla qualità delle nostre acque. C'è stato un allarme di inquinamento radioattivo all'interno delle acque del Ruzzo? No, no, anzi, la tua sollecitazione mi consente anche di evidenziare che il titolo che c'era sullo screenshot, sulla video iniziale delle Iene, parlava proprio di esperimenti nucleari. In realtà io non so quali esperimenti faccio all'interno del laboratorio perché non sono un tecnico, ma certamente l'episodio di cui parliamo non ha nulla a che fare con il nucleare e quindi in realtà secondo me è stato anche un termine utilizzato scorrettamente ancora una volta per fare dell'allarmismo. Premesso che non c'è Kim Jong-un all'interno dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ecco, che cosa è successo adesso in termini reali? Allora, l'ipotesi è che questo dicloroetano, diclorometano, che è un solvente che viene utilizzato per sgrassare, per pulire vetrini e provette, si è evaporato, che questa evaporazione non sia stata controllata dai sistemi di filtraggio delle aree del laboratorio e che quindi poi si sia in qualche maniente l'evaporazione mischiata all'acqua di stilicidio, che a sua volta è finita nel pozzetto. Ecco, e questa è l'ipotesi che almeno il direttore ha fatto qualche settimana fa e che riteniamo sia la più credibile. L'accusa che vi è stata mossa è che non avete avvertito la popolazione. Perché non lo avete fatto? Allora, non l'abbiamo fatto perché non esiste in questo senso un obbligo di legge, o meglio, la legge obbliga in caso di pericolo per l'incomunumità pubblica. In verità non ce lo siamo posto il problema, perché noi abbiamo diverse decine di sorgenti nel territorio provinciale e può capitare che periodicamente una sorgente possa avere un problema, un intorbidimento per una frana e che quindi venga, per queste ragioni, proprio perché noi le teniamo monitorate costantemente, si decida di metterla fuori utilizzo. Ma non è che noi di questo informiamo quotidianamente la cittadinanza, finché siamo in grado, e lo siamo stati sempre, di garantire la perfetta potabilità delle acque immesse in rete. Adesso i rapporti, chiamiamoli lavorativi, con l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, come sono e che cosa è stato fatto? I rapporti sono normali, sono buoni, loro dovranno... I rapporti interventi, diciamo. Allora, noi sappiamo che loro devono fare un intervento nelle prossime settimane e quindi concorderemo il mancato utilizzo in quel caso della captazione, proprio perché mentre loro fanno delle attività di manutenzione, come questo capita anche con la società, con l'autostrade, noi evidentemente facciamo più attenzione per evitare che ci siano dei rischi alla captazione idrica. Dovremo sicuramente, ma sarà la Regione a farsi parte attiva in questo senso, dovrà la Regione concordare interventi di ulteriore messa in sicurezza e di miglioramento dell'attuale sistema di controllo. Chiederete i danni? Questo lo stanno valutando i nostri legali. Nel caso dovesse ripetersi una situazione del genere, cosa farete? Esattamente quello che abbiamo fatto.